Via Petrarca torna a doppio senso di circolazione, si torna dunque alle vecchie abitudini, perlomeno per tutto il periodo festivo. Da domani mattina sarà riaperto a doppio senso, quindi i lavori proseguiranno, proseguiranno però soltanto sul marciapiede, quindi continueranno a pavimentare fino al 21 di dicembre, però il cantiere stradale che insiste proprio sulla sede stradale verrà posizionato all'interno del marciapiede. Quindi avremo di fatto un doppio senso di marcia come originariamente, in più sono stati posizionati questi New Jersey dietro di voi, per evitare che chi proviene da Via Loneleoni possa immettersi su via Fraguittone e di fatto creare conflitto con le macchine che vengono da Piazza Guido Monaco. È un test che abbiamo deciso di fare in questi giorni perché ci sarà molto traffico veicolare, essendo il fine settimana probabilmente più frequentato da parte dei turisti, e quindi vedremo nei prossimi giorni se questo causerà accumuli sulla rotatoria di Via del Rossellino o meno. Qualora non dovesse dare esiti positivi torneremo alla vecchia soluzione. L'8 gennaio invece riprenderanno i lavori e in quest'ultima fase Via Petrarca sarà nuovamente a senso unico con dell'elettrice Piazza Guido Monaco. Riprenderemo l'8 gennaio proprio dall'incrocio della caserna Cadorna e nei primi giorni il traffico sarà in uscita dalla caserna Cadorna, quindi in destra. Successivamente, una volta superata la caserna Cadorna, il traffico dovrà, per chi esce dalla caserna Cadorna, essere ripristinata in sinistra e verso Via Guido Monaco fino al termine dei lavori, che si presume verso la metà del mese di febbraio, tempo permettendo, metà a fine febbraio. Anche a conclusione dei lavori, Via Petrarca resterà comunque una strada off-limits per la sosta, ad eccezione di stalli specifici per il carico-scarico e i disabili. Sarà una pavimentazione in pietra su tutti e due marsciapiedi, che hanno una dimensione di media di 4 metri e al loro interno trovano spazio dei posti per il carico-scarico, per i portatori di handicap e non ci sarà più la sosta a pagamento né a rotazione.